Fissata per domani mattina al Tribunale del Riesame dell'Aquila, l'udienza nel corso della quale il collegio giudicante dovrà decidere sulla scarcerazione di Alirar e Mansur Dogmosh. Si tratta di due cittadini palestinesi residenti nel capoluogo abruzzese che in marzo erano stati destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla polizia. Assieme a loro era stato arrestato anche un terzo cittadino palestinese, Anan Yaesh. Per i tre l'accusa, stando al fascicolo d'indagine, era quella di terrorismo. In particolare avrebbero fatto parte delle Brigate Martiri di Al-Aqsa, costituendone una sorta di costola il gruppo di risposta rapida Brigate Tulcarem, pianificando attentati contro obiettivi militari e civili, in particolare in Cisgiordania. Questo nell'ambito del conflitto israelo-palestinese. Le posizioni di Yaesh, Irar e Dogmosh in estate erano state valutate anche dalla Corte di Cassazione. I giudici avevano confermato il carcere per Yaesh, mentre per Irar e Dogmosh era stato deciso l'annullamento con rinvio della decisione al Tribunale del Riesame dell'Aquila. Intanto, in occasione dell'udienza di domani, il Comitato Palestina-Aquila ha indetto un nuovo presidio di solidarietà per Ali Irar, Mansur Dogmosh e Anan Yaesh. La richiesta è quella che tutti e tre siano scarcerati e poi sottoposti al regime di protezione internazionale previsto dal diritto umanitario. Le accuse e i mandati di cattura avevano spiegato in aprile gli attivisti aquilani pro-Palestina in occasione di una precedente udienza al Tribunale del Riesame sarebbero arrivati con l'intento di delegittimare e criminalizzare ogni tentativo di resistenza palestinese nei confronti di Israele.